Musica E tanta robetta quest'arco di trionfo Comunque amici sono lieto di darvi il benvenuto In questo secondo episodio di Firenze Food Tour In questo momento come potete ben vedere Ci troviamo in Piazza della Libertà Uno degli snodi e l'anello dei viari Qui di Firenze Per iniziare questo secondo episodio di Firenze Food Tour Con una signora colazione Infatti proprio sotto i portici Che circondano Piazza della Libertà Si trova Caffè Lietta Musica Avete presente quelle mattinate fredde dove fuori si congela E l'unica cosa che si vorrebbe è un posticino caldo dove fare colazione Ecco Caffè Lietta è esattamente quel posticino Dove quando ci passa all'esterno sei super invidioso E le persone che sono all'interno a mangiare quei dolcettini super invitanti Caldi E io mi sono comunque andato a mettere fuori il freddo e il gelo Musica Sono venuto qui da Caffè Lietta per assaggiare i suoi famosi piruli Solo dal nome mi stavo già simpatici Porca vacca ho l'imbrazzo della scelta con i piruli Ah guarda che bello sfondo natalizio Fare il futuro di Natale è proprio bello Ci sono tutte delle belle scenografie a giro Comunque io sono veramente euforico di fronte a questi piruli O piruli Pirulo mi torna meglio Che sono essenzialmente i bicchierini di pasta frolla ripienati fino all'orlo Quindi adesso non c'è da fare troppe domande Vedi il bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto Qui sono pieni zeppi di ripieno Di svariate tipologie di ripieno Io ho preso questo qui con la mousse al cioccolato Cioccolato super cremoso E ovviamente che fai non lo prendi il tiramisù Purtroppo questo qui al cioccolato non lo potrò mangiare Perché mi è caduto rovinosamente a terra quando mi sono seduto al tavolino E infatti i proprietari sono stati così gentili da offrirmi questo qui alla mousse al cioccolato Questo qui ve lo spacco e basta per vedere come è fatto dentro Oh il cuore di cioccolato ma che spettacolo Questa qui è una bomba calorica Veramente impressionante quanto sia un ripieni Hanno alzato il gomito con questi bicchierini eh E diamo ufficialmente inizio a questo secondo episodio di Firenze Food Tour Con questo pirulo alla mousse al cioccolato Buona appetuta a tutti Vabbè Guardate che mare di cioccolato Ma adesso andiamo con il pezzo forte Pirulo al tiramisù Odore di felicità Oh mio dio Oh mio dio Wow Potrei... ho un mancamento Dio santo È illegale questo Guardate qui che spettacolo il tiramisù È molto molto interessante la struttura di questo pirulo C'è proprio costruito un mini tiramisù dentro È tutto stratificato Quindi quando morvi hai diverse consistenze e anche diversi sapori Questi qui sono gli sciottini che piacciono a me A vodka, rum Ma dove andate? Piruli La frolla esterna è super delicata Non è molto croccante perché è molto fina E l'interno dentro è veramente spettacolare Una bella cremina al tiramisù Inizio veramente a bomba per questo secondo episodio di Firenze Food Tour Sciottino di pirulo Bene 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 Sono veramente soddisfatto a questa colazione a base di piruli Camminare la mattina per i lunghissimi viali di Firenze È come ritrovarsi all'interno di un enorme set cinematografico E ti aspetti di sentire da un momento all'altro qualcuno urlare Motore, ciak, azione E se devo dire la verità ci starebbe anche di molto bene Quei due piruli sono stati un ottimo modo per aprirsi al stomaco Però adesso è arrivato il momento di entrare effettivamente nel vivo della cultura fiorentina Con un piatto bello arrogante Mi sono spostato più verso il cuoio di Firenze Per assaggiare uno dei caposaldi della cultura culinaria fiorentina E sto parlando della famosa Trippa Una costituzione per quanto riguarda street food qui a Firenze Di questi chioschi di Trippa e Lampedotto Ce ne sono veramente a dozzine in giro per la città Dietro ogni angolo Sono una certezza È impossibile sentirti solo a Firenze Se nell'aria aleggia sempre questo profumo di Trippa Lampedotto caldo Ti allieta proprio lo spirito, l'animo Trippa da Pollini Considerato uno dei chioschetti migliori qui a Firenze Trippettaro 5 stelle Cosa c'è di meglio di una bella vaschetta di Trippa calda alle 11 e un quarto di mattina? Ecco possiamo dire che in questo piatto c'è Firenze La Trippa è ricavata dai prestomaci del bovino Una bella vaschetta di Frattaglie perciò Buona appetuta a tutti Madonna Porca vacca è buonissima L'odore sa proprio di Frattaglie L'aspetto non è dei migliori Però porca vacca ragazzi Adesso ci fa una bella rubetta Venite giù nel mio laboratorio Molto molto bene Painozzo con la Trippa Bello sugoso E adesso si che si ragiona Se avete assaggiato la Trippa al sugo in una città diversa a Firenze o Genova E non vi è piaciuta Io vi consiglio vivamente di dargli una seconda chance se venite a Firenze Proprio a Firenze dentro questa vaschetta Ecco questa vaschetta di Trippa è uno dei piatti dove un morso tira l'altro Questo perché il sughetto è bello insaporito dal pepe Dopodiché nel retrogusto ti rimane questo pizzicantino Che vuoi di nuovo compensarlo con la delicatezza della Trippa Non potete dire di essere stati a Firenze se non avete mangiato almeno un panino con l'ampredotto O la Trippa alla Fiorentina Bene 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 Adesso mi sento effettivamente nel vivo della cultura Culinare Fiorentina Proseguiamo Si iniziano a sentire i sapori di una città Non so quanto sia stata assaggio come scelta a fare questo secondo episodio di Firenze Food Tour di sabato Ciò significa tanta gente a giro, tanta gente ai ristoranti e file lunghissime Però vabbè questo movimento nelle città mi mette di buon umore Ah benvenuti in Piazza della Signoria Una delle piazze che pullula di monumenti storici qui a Firenze Palazzo della Signoria Gli uffizi e la loggia dei Lanzi E proprio se vogliamo dirla tutta anche il corridoio vasariano sopra gli uffizi Così Ecco e adesso penso che una delle mete più gettonate delle persone che visitano Firenze Siano gli uffizi Però non tutti, anzi quasi nessuno secondo me conosce la storia degli uffizi E quello che c'era prima Ecco dovete sapere che in quel punto e in quella zona un tempo si trovava all'Osteria dei Baldracca Che era essenzialmente un bordello Perciò nel Cinquecento per la volontà di Cosimo dei Medici di riunire sotto un'unica struttura Tutte le arti e le magistrature di Firenze Venne commissionata la costruzione di quelli che noi tutti oggi conosciamo con il nome degli uffizi Che significherebbe non altro che uffici A Giorgio Vasari Pensate che i lavori richiesero più di vent'anni Andando a caratterizzare quello che sarebbe stato il cantiere più grande di Firenze del Cinquecento Era essenzialmente un mega centro commerciale Che poi successivamente è stato trasformato in archivio E infine quello che noi tutti oggi conosciamo come la galleria degli uffizi Però che bomba Che maestoso Veramente ambizioso Allora visto che io non voglio pranzare alle 3 So perfettamente a cosa sta andando incontro Si pranza alle 12 O meglio si va a pranzare alle 12 e poi si mangerà l'una Visto che nello scorso Futur ve l'avevo promesso Oggi si pranza con una bella schiacciata in antico vinaio Qui a Firenze in antichi vinaio non ce l'abbiamo uno Ce l'abbiamo quattro Così giusto un piccolo flex A questo giro voglio optare per una tricolore Mi ispira di brutto il carpaccio di Manzo Una bella limited edition E si gode Vai grazie Victory Victory Ce l'abbiamo fatta dopo mezz'ora E adesso andiamo a gustarcela rigorosamente sul lungarno Come vuole a tradizione Bella calda ancora Con carpaccio di Manzo Crema di pistacchio Stracciatella Basilico E granella di nocciola Vada qui che spettacolo Perciò amici miei che dire Non voglio farla raffreddare troppo Quindi andiamo al taste test di questa schiacciata in antico vinaio Buona appetuta a tutti L'è buona C'è poco a fare L'è buona Il carpaccio di Manzo sapevo che è un'ottima scelta Oddio il mio soglia tutto L'es magnifique Stracciatella super cremosa Il carpaccio di Manzo si scioglie in bocca Insaporito ancora di più della granella di nocciole E poi arriva l'ulto del pesto di pistacchio Che ti fa scivolare tutto direttamente in gola È una goduria Però il problema di queste schiacciate è che sono tutte bucrellate Quindi ti sbrodoli tutto Non potevo fare un food tour a Firenze E non venire dall'antico vinaio Un bellino all'Italia con questo a tricolore Basilico tuttavia devo dire che non l'ho sentito molto Questo carpaccio di Manzo spacca veramente Questo secondo episodio di Firenze food tour Sta prendendo forma Sta prendendo una bellissima forma Antico vinaio super mainstream Ormai famoso in tutto il mondo Sono molto felice di questo Scontato dire che Approvato Cioè Approvato ma Eh 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 Ecco io adesso non so se voi avete mai visitato Firenze Ma più in particolare avete mai visto Ponte Vecchio Ecco perché io ogni volta che lo vedo Rimango veramente esterrefatto Da il modo in cui Tutte queste casette Riescano ad arrampicarsi l'una sull'altra Sopra questo fiume Che scorre Sembra Sembra quasi Un'incisione di Escher Non so se avete presente quelle scala impossibili Qualcosa di Incredibile Bellissime le montagne innevate nello sfondo Adesso ci facciamo una bella camminatina Verso la prossima tappa Intanto digeriamo Perché ancora con il pranzo Non abbiamo finito Bene 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 in questo momento ci troviamo nel caro e vecchio mercato della pelletteria Qui a Firenze E c'è solamente un motivo per il quale siamo qui E questo motivo si chiama mercato centrale di Firenze Però prima di entrare nel magico mondo del mercato centrale C'è una tappa molto importante da fare esattamente qui fuori Ovvero da trattoria da Mario Voto 10 Ah vai Ah ma noi sappiamo già esattamente cosa prenderemo Già veni qui un daily vlog passato Però ci sono ritornato per far vedere nel foodtour La famosissima ribollita Dopo la pappa al pomodoro del primo episodio di Firenze Foodtour Non potevo non prendere la ribollita La ribollita è un piatto veramente molto molto interessante Che fa parte della tradizione povera dei contadini toscani Ed è costituito da ingredienti altrettanto poveri e umili Come panerafermo, verdure, fagioli borlotti Essenzialmente tutto ciò che si trovavano in casa ai contadini E il nome deriva dal fatto che quando le contadine preparavano questa zuppa La preparavano in gran quantità In modo a poterla riscaldare e mangiare anche nei giorni successivi E proprio per questo motivo la preparazione della ribollita Prevede una seconda ribollitura Altrimenti sarebbe una comunissima e normalissima zuppa Queste pappe, queste zuppe secondo me sono una scelta migliore da fare Se ti vuoi riscaldare l'animo quando fuori è freddo Buona appetuta a tutti Ti immedesimi proprio il contadino che a fine giornata rientra in casa Il freddo lito che ha lavorato tutto il giorno Che finalmente può mangiare un pasto caldo Senti proprio tutta questa atmosfera I sapori sono proprio sapori umili Resi più elaborati della tradizione Non puoi pretendere di fare un vero futuro a Firenze Se in questo non ci inserisci o la pappa al pomodoro o la ribollita Visto che sono già qui a Trattori di Dammario Visto che nel menu c'è lo zucotto Che fai non lo prendi? Anche questo dolce super tipico della tradizione fiorentina Che non vi ho mostrato nel primo food tour E che volevo mostrarvelo però non l'ho trovata a nessuna parte E quindi si rimedia oggi Grazie Mi indica veramente un botto questo zucotto Questo dove dire Kermens è spettacolare È la prima volta che lo mangio in tutta la mia vita tra l'altro Wow È un dolce veramente super super goloso questo Tanti spagni esterni imbevuti a Kermens Crema, cioccolato e gocce di cioccolato Mi servivano un sacco questi carboidrati Per compensare la cena di stasera Ecco questo qui è uno di quei dolci dove un morso tira l'altro Questo perché nel retro gusto ti rimane proprio in gola L'acidino dell'Arkermens E vuoi ricompensarlo con la dolcezza della crema e del cioccolato Adoro il susseguirsi sequenziale dei vari sapori Ribollita, zucotto e un'acqua a 13 euro Ribollita veniva a 7, zucotto 3 Quindi un prezzo molto onesto Adesso è il momento suo Qui al mercato centrale rimaniamo ancora sulla cultura dei paninozzi fiorentini Con un panino molto particolare E sto parlando del panino con la lingua Grazie mille Voi che vi fermate all'apparenza delle cose Non avete idea di cosa vi perdete Panino con la lingua è la fine del mondo Buona appetuta a tutti È proprio bello fumiciare con un bovino A mio parere uno dei panini più sottovalutati che si può mangiare a Firenze Non capisco perché non sia famoso come il panino con l'ampedotto o con la trippa L'unico posto che conosco che lo fa qui a Firenze È questo chioschetto a Giacomo Trapani al mercato centrale Ed è spettacolare La lingua è cotta così tanto che arriva a una consistenza sfilacciosa tipo pulled pork Però è molto più morbida Si scioglie molto meglio in bocca E quella salsetta verde è spaziale Ogni volta che dico madonna è strabuone il panino con la lingua Tutti mi guardano in modo strano Ma ragazzi se vi è venuto a Firenze provatelo per favore Provate per credere Fidatevi di me Fra la trippa, fra il carpaccio di manzo Fra la lingua e fra quello che sai alla cena Penso che in questo episodio di Firenze Futur mi mangerò un manzo intero Sia all'esterno che all'interno soprattutto Onesto Nel mio lavoro qui al mercato centrale Per oggi è finito qui È un posto sempre molto magico dove entrare al mercato centrale Però adesso visto che è da un bel po' che siamo sul salato Direi di spostarci di nuovo sul dolce Ecco camminare per Firenze è come camminare all'interno di un enorme museo a cielo aperto Pieno di incredibili scorci, architetture, sculture, curiosità dietro ogni angolo È qualcosa di veramente molto molto affascinante Quale migliore opzione se non il neccio per rituffarsi ai sapori dolci della cucina toscana? Il neccio sarebbe un piatto a base di farina di castagne veramente poco conosciuto Tipico dell'Appenino lucchese che si può gustare sia con condimenti dolci che con condimenti salati E ovviamente noi si opta per i condimenti dolci Italy comunque per chiunque non lo conoscesse è una sorta di alimentari con del cibo tipico italiano super di qualità Ovviamente ho preso il neccio con il condimento dolce Quindi ricotta, marmellata di fichi e mandorle Grazie mille Prego Ciao, buon lavoro Buon neccio a titti Che bontà la farina di castagne Ecco per mangiare un castagnaccio però molto più fino, molto più elastico e più leggero Magnifico il neccio Ricotta e marmellata di fichi combo super dolce Che tagliata proprio la bocca e poi in chiusura rimane la croccantezza delle mandorle Il dolce è proprio quello che ci voleva dopo un bel panino con la lingua Secondo me questo dolce lo conosceranno solamente coloro che sono iscritti da marzo 2021 al mio canale Il chiuscetto del necciai è nascosto in un anfratto qui da Italy che non è molto evidente Se passate da Firenze non fatevelo scappare il neccio Adesso l'equilibrio dolce e salato è stato ristabilito Se vedete le persone che fanno così Dov'è che siamo? Non ne ho idea, non ho la più palida idea E anche questo episodio di Firenze Futur è stato battezzato a Santa Maria del Fiore Ok per il momento quindi io mi posso ritenere soddisfatto E noi ci rivediamo sempre qui in centro a Firenze per stasera cena Che stasera cena c'è Aiuto Ah eccoci qua come promesso eccoci qui per la cena Allora partendo dal presupposto che fa un freddo cane E una volta un saggio mi disse che il miglior modo per contrastare il freddo è mangiando Quindi questa sera cena si va di arroganza Pur arroganza, nient'altro Per il livello di arroganza di questa cena ovviamente non sarò da solo ma con me Eccolo, eccolo Colui che affonderà con me Se bisogna farci venire la gotta bisogna farci venire insieme Ho detto che qui fanno la carne migliore del mondo La Fiorentina Fiorentina da Agricola Toscana per questa cena E la cosa più bella in tutto questo è che io non ho mai mangiato la Fiorentina in tutta la mia vita Si inizia col botto dai Noi siamo qui per lei Solamente per lei Fiorentina 55 euro quella normale Sì siamo venuti qui per quella La cameriera ci ha avvisato che la Fiorentina sarà da un chile e quattro Sarà un bambino appena nato Ci mangiamo un bambino oggi Ecco i coltelli che ci serviranno per affrontare questa Fiorentina E' un piatto perfetto anche dal punto di vista architettonico Con questo bellissimo osso a T C'è un aroma di carne che sto sbavando di brutto Wow Tutte le fibre Che spettacolo Alla temperatura corporea salita tipo a 40 gradi Magnifico Prendiamo un bel pezzettone anche con la crosticina E signori miei buon appetuto a Titti Se mi dicono cos'è per te la carne Questa è carne Cioè questa è la definizione di carne Sì Bella succulenta Tenera Speziata La crosticina esterna Che è croccante Oddio Non ha veramente senso E' buona Carne umana Ma ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando? Salettino Mio Dio Quando la carne è dello stesso colore delle mie labbra Che bella Firenze Patatine giusto per ricordarsi che saporevano i carboidrati Ok sapevo di questo Come ho fatto a vivere 21 anni della mia vita senza mangiare la Fiorentina? Sembra di essere in una savana quando i leoni lasciano le carcasse e le antilopi Adesso è arrivato il momento di sbrannare l'osso Non si spezza La carne all'osso è la meglio Si lascia l'osso bianco La fine ce la siamo spazzolata anche come la notevole Noshalans Ci saremmo mangiati 200 grammi di proteine a testa Però siamo felici Che spettacolo Direi che quello che potevamo scarnare l'abbiamo scarnato Superlativa Superlativa E adesso siamo soddisfatti Direi che non potevo chiedere di meglio per cena per il secondo episodio del Firenze Food Tour Che fai dopo aver banchettato con un'arrogantissima bistecca la Fiorentina Non la chiudi la giornata con un bel gelatino? Anche se fuori ci sono 6 gradi non esiste il Food Tour che si rispetti Se questo non vi è concluso con un bel gelatino Guardatela La luce nella notte La stella cometa dei Re Magi La gelateria per concludere questo Food Tour in dolcezza E dopo essere stato da vivo e nel primo episodio di questo Firenze Food Tour Come potevo non venire da Badiani Una delle gelaterie per eccellenza che possiamo trovare qui a Firenze Grazie Ovviamente come gusto pistacchio e special guest un buon talenti Gusto a base di panna e crema Ovviamente prima di tutto taste test del pistacchio Molto molto denso Il colore non è proprio artigianale Però sentiamo il gusto Molto molto buono Sinceramente non me l'aspettavo ma il gusto dei pistacchi è veramente molto molto effettivo Non ha il retro gusto salato quindi è un pistacchio leggermente dolce Assaggiamo il gusto buon talenti Interessante Molto delicato ma non è troppo dolce È un 70% del gusto della panna e un 30% della crema Proviamoli insieme Bella combo perché il pistacchio è bello deciso con il gusto mentre il buon talenti è più delicato Quindi c'è un ottimo mix Perciò amici miei da qui da dove tutta questa serie è iniziata Vi dico questo secondo episodio di Firenze Food Tour Siamo giunti al termine della scoperta dei cibi Della cultura culinaria fiorentina Io spero vivamente con tutto me stesso che sia riuscito a farvi scoprire dei cibi E dei posti molto interessanti dove andare a mangiare qui a Firenze Quindi spero vivamente che questa serie vi sia piaciuta E noi come al solito ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video Arrivederci